storie maledette su fb il teaser del programma cult 24 anni di interviste per capire il lato scuro che ci abita manca pochissimo l'11 marzo su rai 3 franca leosini tornerà con le nuove puntate di storie maledette il format atteso da tanti telespettatori che negli anni si sono affezionati alle indagini di franca e al suo modo di raccontare sviscerare vite all'apparenza normali che improvvisamente si trasformano lo dice lei stessa in buchi neri storie maledette faccia a faccia tra leosini cosima e sabrina in attesa del grande ritorno su facebook la pagina ufficiale di storie maledette ha pubblicato un breve video teaser ricordando a tutti fan l'appuntamento con il nuovo ciclo di puntate infine il video si chiude con una citazione della stessa franca i miei interlocutori non sono mai professionisti del crimine ma persone come me che a un certo punto della loro vita cadono nel vuoto di una maledetta storia guarda la foto